Siamo al villaggio San Marco a Piazza Armerina, qua siamo veramente combinati male, guardate da almeno 15 giorni mi dicono, da almeno, quindi non si sa da quando, c'è questo buco nel centro della strada, molto pericoloso per le macchine che scendono, guardate come la vegetazione primaverile qua trionfa in uno dei quartieri più degradati della città, dove le amministrazioni comunali dovrebbero essere sempre più attenti, invece probabilmente pensano ad altre cose, qua i cani randaggi lo fanno da padrona, si lamentano tutti i residenti che ci chiamano per dire guarda, 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 in effetti la situazione non è buona, come diceva una canzone di Celentano, guardate quanti cani randaggi, ma i quali vogliono bene, quindi i cani randaggi figurarsi se non vengono, vengono ancora di più, comunque www.agostinasella.it